Possiamo dire cervi salvi? Sì, assolutamente sì. Così Michele Pezzone, legale delle tre associazioni, WWF, LAV e LNDC Animal Protection, che a suo tempo impugnarono la delibera regionale sull'abbattimento di 469 cervi. Dopo mesi di discussioni e polemiche, lo scorso 11 novembre, l'ordinanza del Consiglio di Stato con cui era stata sospesa la deliberazione della Giunta. La questione è poi arrivata al Tarrabruzzo, che ha fissato l'udienza di merito per il 14 maggio 2025. Quali sono gli scenari? Che cosa potrà accadere a maggio? È un'udienza che si terrà quando il calendario venatorio, perché di un calendario venatorio stavamo parlando, non di un'attività di controllo di specie che causano danni, ma di un calendario venatorio, beh, questo avrà cessato la sua efficacia perché scadeva il 15 marzo, quindi la cosa più probabile è che il Tar dichiarerà cessata la materia del contendere. Ovviamente noi chiederemo comunque una pronuncia nel merito per avere quello che viene definito un effetto conformativo per la pubblica amministrazione per i prossimi anni, cioè se la Regione Abruzzo dovesse decidere nuovamente di pianificare un calendario venatorio, si chiede al Tar una pronuncia che possa valere anche per il futuro. Quindi una vittoria per le associazioni che si sono rivolte a lei? Sì, fortunatamente sì, siamo contentissimi di questo risultato, abbiamo sentito l'affetto di un'intera Regione che ha seguito questa vicenda giudiziaria, e ora possiamo dire che i cervi sono al sicuro. A questo punto le chiedo, Avvocato, che cosa si sente di dire alla Regione? Io alla Regione direi di tenere conto di quella che è l'indicazione che è stata data dal Consiglio di Stato che ha ritenuto importanti i nostri motivi circa il mancato monitoraggio. Noi abbiamo evidenziato che, oltre a quella consistenza numerica dei cervi che per poco aveva superato la minima soglia che avrebbe consentito una cacciabilità, ci sono degli equilibri nell'ecosistema importanti da andare a considerare, ci sono dei monitoraggi che servono a verificare l'impatto della caccia di una specie, anche su altre specie particolarmente protette che ci sono in Abruzzo, come lupi e orsi. Questo non è stato fatto, io direi alla Regione di cominciare ad attivarsi per fare i monitoraggi che erano previsti anche dal piano faunistico venatorio ma che non sono stati fatti.